Venerdì 24 novembre a Teramo presso il bar Largo San Matteo alle 16.30 si svolgerà la quinta edizione del premio Carmine Rodomonti. Eccezionalmente per questa edizione il premio è stato unificato con l'altro premio Carmine Archimede Rodomonti, solitamente organizzato dall'AIA di Teramo nell'ambito arbitrale. Ancora una volta artefici di questa manifestazione gli amici del calcio terramano, nelle figure di Vincenzo Di Antonio, anima da circa un ventennio di tutte le manifestazioni calcistiche omaggianti i nostri ex biancorossi, coadiuvato dall'avvocato Giovanni Gebbia che nobilita il tutto, e Diego Di Felicio Antonio, memoria storica delle carriere dei nostri eroi. A loro si è unita l'AIA, associazione italiana arbitri di Teramo, che ha dato un sostanziale supporto alla riuscita dell'evento. I premiati saranno Paolo Manunza, Andrea Natali, Marco Arno, Luciano Barboni, Massimo Valada, Nilo Pelliccia, alla carriera Felice Garzili e Angelo Pierleoni, alla memoria Mirko Mazzagatti. Ospite d'onore il giornalista televisivo e conduttore Riccardo Cucchi, che nell'occasione presenterà il suo nuovo libro, Un altro calcio. Ci sarà una rimpatriata di ex biancorossi per festeggiare e rivedere i loro compagni di tante battaglie calcistiche, tra i tanti Simonato Pulitelli Canestrari, Angelo Pierleoni, Di Giovanni Esposito, Bucciarelli Collevecchio, Piccioni, D'Aprile Menna e Osvaldo Iaconi. Sempre nello stesso periodo ci saranno altri incontri organizzati da Vincenzo Di Antonio e degli Amici del Calcio Teramano, in collaborazione con la San Benedettese e il Pineto Calcio, giovedì 23 novembre alle 18 all'Arena San Benedetto del Tronto e venerdì 24 novembre alle 10.30 presso la sala consigliare di Roseto degli Abruzzi.